ciao ragazzi ciao a tutti io sono e ben man quindi ho deciso di aprire nuovo canale di youtube e si quindi diciamo che quella slovena non è andata come volevo insomma avete notato negli ultimi giorni ultimi mesi non facevo più video così che neanche non avevo voglia più tanto così che ho deciso di aprire un nuovo canale perché in sloveno diciamo che non me la sentivo non non mi andavano i video come desideravo così che scelgo la mia lingua italiana che che ho visto che mi va meglio diciamo quindi ovviamente sempre sanno i gameplay allora diciamo che su questo nuovo canale mi proverò a impegnare di più perché diciamo che tutti questi anni quindi questi anni diciamo da da un anno e mezzo diciamo che il mio canale youtube è ancora un po ancora un serio diciamo molto provavo ho visto che anche parlavo cazzate per dire e anche mi dispiace che facevo video quindi non facevo video quindi che io dico la parola però dice la parola da un altro youtuber quindi diciamo ho detto va chiudo la baracca perché anche in questo canale slovena c'era molta copia ancora diciamo non mi piaceva poi ho detto cazzo alla fine come avete visto ultimi tempi ho quasi cancellato tantissimi video i quelli da da luglio agosto perché non ero d'accordo con con quello che dicevo così credo qua chiudo la baracca iniziamo da nuovo e no ma il problema alla fine era che ok che copiavo ma quando te copie una cosa non sei tanto fiero di te stesso per dire 7 se tu fai una casa da solo con le tue idee oppure la coppia non è uguale quindi diciamo che per questo non anche non facevo più tanti video e negli ultimi giorni avete anche visto che non facevo quando l'ho fatto l'ultimo non so gli ultimi video e facevo solo post i post dopo le partite tipo juventus atalanta quindi proprio l'ultimo gameplay mi sa che era quello di outlast in 10 marzo non mi sbaglio così che si era visto che non sta andando probabilmente tornerà al canale e ben mantin quindi ci saranno anche vide insieme quindi la lingua lì non importa possa essere sia lingua slovena italiana tedesca inglese o qualsiasi e forse anche sarà un canale dove un utente non so mi manda un suo gameplay un video e dopo lo pubblico su magari riceverà qualche iscritto ma però questa ancora non credo che saranno così veloce perché neanche io non sono conosciuto quindi magari dopo se sarà un conosciuto magari attivo col canale però ancora lunga fino a quel punto quindi se siete interessati il mio canale iscrivetevi subito ma anche abbiamo la pagina facebook e ben man quindi anche lì potete mettere mi piace se volete essere interessati alle alle novità e aggiornamenti che metterò su così che mi piace e quindi ragazzi adesso è tutto e noi ci becchiamo al prossimo video